Gioielli, denaro, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche rubate in diverse occasioni nel corso di un anno da una banda di due minorenni ed una diciannovenne che operavano nella stessa villa della quale avevano una copia della chiave della porta d'ingresso. Una donna tedesca, le cui iniziali sono BGMA, proprietaria della villa situata nella località marina di Villanova ad Ostuni, aveva notato la sparizione di preziosi apparecchi elettrici ma non avendo notato effrazione o finestre rotte non aveva mai collegato la mancanza degli oggetti a furti. Lo scorso 29 luglio la donna, rientrata nella villa, ha sorpreso un giovane che all'interno delle stanze stava rovistando la ricerca di qualcosa. Il ragazzo, ormai scoperto, ha vistosi alle strette e fuggito via dopo aver strattonato la donna. Uscito dalla porta d'ingresso, si è allontanato dalle campagne circostanti. La donna, ripresasi dallo spavento, ha allertato le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza sono così giunti sul posto e controllando la zona circostante hanno rinvenuto una ciabatta con molta probabilità appartenente al ladro fuggito. Dopo aver fatto vedere la calzatura alla donna e aver ascoltato dalla stessa la descrizione, i poliziotti sono risaliti ad una 17enne ostunese RG che nel frattempo era rientrato a casa dove gli agenti lo hanno ritrovato ancora con l'altra ciabatta. In commissariato la donna non solo ha riconosciuto il giovane scovato nell'appartamento, ma lo ha anche collegato al proprio figlio ricordando di averli visti insieme. A quel punto al 17enne non è rimasto da fare altro che confessare la sua responsabilità e denunciare anche due suoi complici, TG di 17 anni ed SF, 19enne, tutti di ostuni. I giovani, fintisi amici del figlio della turista tedesca, erano riusciti a farsi consegnare la chiave a farne una copia per poi entrare indisturbati e compiere i furti. I tre giovani sono accusati di tentata rapina e furto aggravato e continuato. Inoltre, oltre alla restituzione di una parte della refurtiva recuperata nelle abitazioni dei ladri, a spese dei giovani arrestati sono state cambiate le serature di porte e finestre della villa.